Oggi voglio fare un video per convincervi e dimostrarvi di qualcosa che già so che vi farà storcere il naso, ovvero che Vieni Avanti Cretino con Lino Banfi è il più grande film comico italiano degli ultimi 40 anni e forse non solo. Sono Emanuele Rauco, benvenuti sul mio canale, benvenuti nel nuovo video. Non sono a casa mia, come potete vedere sono in una stanza di un bed and breakfast a Catania. Dove codirigo il Catania Film Fest. Se siete capitati qui per caso, perché siete stati attratti dal titolo, potete fare una cosa. Potete per esempio iscrivervi al canale, attivare la campanella e così andare a fare un po' in giro sugli altri video per capire se è stato un caso oppure se quello che faccio vi piace. Se invece siete già dei miei iscritti mettete mi piace a questo video e commentate, condividete e abbonatevi. Abbonatevi, perché no? Ci sono molti contenuti speciali che sto preparando insieme alla mia, come dire, moglie supporter emiliana. Allora arriviamo al punto del video. Siccome questo film Vieni Avanti Cretino compie 40 anni e il suo regista compie 100 anni, compirebbe, purtroppo è morto molto giovane, è morto a 69 anni, ma se fosse vivo compirebbe 100 anni. E siccome ho sempre amato questo film, ho deciso di tirar fuori questo scheletro, chiamiamolo così, dell'armadio. Però perché scheletro? Io non credo ai guilty pleasure. Partiamo da questo presupposto. Se c'è piacere non c'è colpa. Se un film ti provoca piacere, se un film in questo caso ti fa molto ridere, non devi giustificarti di niente. Evidentemente questo film, che è un film comico, ha fatto il suo lavoro. Ma perché penso che sia il più bel film, il più grande film comico italiano degli ultimi 40 anni, Vieni Avanti Cretino? E' uno degli ultimi film di Luciano Salce. Luciano Salce è stato un regista della commedia italiana, non uno dei più celebrati. E chiaramente ci sono dei registi che hanno fatto più capolavori, Dino Risi, Monicelli, Comencini. Diciamo che in questo senso, chiamiamolo di seconda fascia, è un po' ingeneroso, visto che ha fatto dei film molto importanti, molto celebrati. Il federale, La voglia matta, che è bellissimo. E poi Fantozzi. I primi due Fantozzi sono diretti da Salce. E non è solo il saper gestire i talenti comici, ma in quel caso lo vediamo, e mi aiuta molto per poi provare a convincervi di questa cosa, di Vieni Avanti Cretino. L'utilizzo proprio delle armi del comico classico, il montaggio, l'effetto sonoro, l'effetto speciale, in qualche modo usato in chiave comica, delle gag puramente visive di slapstick, anche estremo, anche iperbolico, grottesco, di Fantozzi, vengono da Salce. Cioè, sono frutto delle idee di Paolo Villaggio, ma poi diventano cinema, grazie al lavoro di Salce. che è stato anche un attore, un raffinato attore di commedia, anche cinematografica, ma anche televisiva. E poi, uno degli suoi ultimi film, ovviamente, dirige un grande successo come L'ana tra l'arancia nel 75. Insomma, è in una fase in cui ha detto molto, ha avuto dei grandi successi, ma forse l'ispirazione sta crollando, forse il mercato non è più quello. E quindi tende un po' a De Crino. Nell'82, anche se appunto è abbastanza giovane, perché sono del 22, ha 60 anni, però, evidentemente, il mondo del cinema italiano non è più quello. La commedia all'italiana sta morendo, sta finendo. Uccisa, secondo alcuni studiosi, proprio dalle commediacce sexy, dalla serie B, C, D e Z e dai film con Lino Banfi. E quindi, il colpo di genio. Chiamare, per un film, colui che in un certo senso è l'autore dell'assassinio della tua carriera, estremizzando, eh, non sto dicendo una cosa del genere. E però fare, ovviamente questa è un'operazione produttiva, diventa, ma che Salce? Sposa, in qualche modo, con una certa forza, con una certa verve. Quindi fare un film con quello che è poi la causa della fine, considerata, della commedia all'italiana nel senso nobile del termine. Quindi Lino Banfi. E costruire con lui un film come Viene avanti Cretino, che è considerato da tantissimi proprio l'ultimo canto della commedia all'italiana. Proprio il film Pietra Tombale della commedia all'italiana. Dopo di cui la commedia all'italiana non esisterà più e bisognerà aspettare la fine degli anni zero, del 2000, per pensare a una sorta di neo-commedia all'italiana, al di là dei graffronti qualitativi, però dal punto di vista produttivo. Perché questo film è grande? Perché è in un'ora e mezza un concentrato della storia, della comicità non solo italiana, la comicità cinematografica e teatrale, reso, secondo me, grandioso dal rapporto di alchimia pazzesca. Io adesso non so le storie dietro al film, non so cosa c'era dietro al film, però sento un'alchimia pazzesca tra chi il film l'ha diretto e chi il film l'ha interpretato. Dal punto di vista comico, credo che sia la più grande interpretazione di Lino Banfi e che fa veramente tutto ciò che un attore comico deve fare. Il film è, come molti film comici, un film costruito a sketch. Si basa su un pretesto che dia la possibilità di costruire delle gag e degli sketch legati da questo pretesto, legato da questo film. Il pretesto qual è? Lino Banfi, che nel film si chiama Pasquale Baudaffi, è un carcerato. Non mi pare si dica per cosa si è finito in carcere. L'ho visto tantissime volte, ma questo dettaglio non me lo ricordo. Quindi forse non si dice perché è finito in carcere. È un carcerato che esce dal carcere e nell'uscire dal carcere deve un po' riadattarsi alla vita. E quindi, grazie all'aiuto del cognato, cerca di fare vari lavori e cerca di fare varie esperienze per reintegrarsi. Quindi, vari lavori, varie esperienze di vita. Per esempio, ovviamente, siccome il punto è, questa deve essere una commedia popolare, deve essere una commedia che cerca il basso, una commedia veramente triviale. E quindi, qual è la prima cosa che fa un carcerato in una commedia triviale? Cerca il sesso. Commedia degli equivoci vorrebbe andare in un bordello. Finisce da un dentista che nel frattempo, negli anni in cui è stato carcerato, quel bordello non c'è più, è diventato uno studio dentistico. E quindi tutti gli equivoci tra il sesso e la pratica dentistica. Dice, quali sosti equivoci nella sceneggiatura vi riescono a trovare? Gli sceneggiatori, i gagman, chiamati così, riescono a trovare una quantità di equivoci a sfondo sessuale di una ricchezza incredibile. E già questa è una grandezza. Ma per capire che non è semplicemente la messa in scena di elementi comici, ma c'è un lavoro di scrittura comica, di regia comica, basterebbe veramente la prima gag. La prima gag è proprio appena lui esce dal carcere. È una gag che è diventata anche abbastanza virale, perché si presta molto ad essere memata. Lui esce dal carcere e in uno spiazzale, in uno spiazzale dei bus, dove arrivano un sacco di bus, incontra un prete. Un prete che comincia a parlargli in un pugliese strettissimo. E mentre loro due si parlano in questo pugliese strettissimo, che non si capisce niente, si prendono a schiaffi. Qual è il colpo di... Già la scena in sé fa ridere, perché c'è un ritmo dello scambio di battute pazzesco. Il colpo di genio, l'elemento visivo. I sottotitoli di quel pugliese non sono in italiano, ma sono in arabo. E poi, come dire, però ecco, e quindi il colpo di genio. L'altro colpo di genio è affiancare questi elementi di modernità visiva, quasi di futurismo, e poi arriveremo all'ultima sequenza, che è forse la più celebre, e affiancare lì però la riscoperta, la riscrittura dei grandi classici della tradizione comica italiana e non solo. Qui c'è un grande numero dell'avaspettacolo, quello dell'equivoco tra ma io ti conosco, ma ti conosco, faccio finta di conoscerti, ma poi alla fine non so chi sei, finisce con Lino Banfi che dice ma tu chi c'è sei? Diciamo, no? E appunto, tutte le gag sono dei grandi classici del repertorio dell'avaspettacolo, della comica, della comica muta e della comica teatrale, e appunto della storia della comicità mondiale, e storia nel senso che non sono cinematografica, riletti però con l'occhio moderno. Per esempio c'è la mimica, il gioco dei mimi, la scena che a me ammazza ogni volta, io quando l'ho visto più di una volta ho rischiato di perdere il respiro, è una scena in cui Lino Banfi deve reggere il gioco al cognato che ha raccontato una serie di bugie alla moglie per far finta che non l'avesse tradita. E gli ha raccontato che anziché andare con l'amante è andato con il cognato a mangiare, sono andati a mangiare al ristorante, bla bla bla. E quando lui, il cognato, per fargli reggere il gioco al cognato, a Lino Banfi che non sa di cosa deve parlare, gli inima quello che deve dire, il gioco degli equivoci tra quello che capisce lui e quello che dice Bracardi, i gesti che fa e i gesti che intuisce, è folgorante. Ma è folgorante per l'ideazione, per la scrittura e per la regia. Cioè è messo in scena con una precisione di tempi comici, dai infarto, il montaggio di questo film è una roba dai infarto, il montaggio comico. E prosegue per quasi tutto il film, la gag al bar, anche qui, qui sono gli equivoci linguistici, con Lino Banfi che non capisce le parole straniere e non capisce, e crede che il dialogo tra i due avventori siano le loro ordinazioni, quindi gli porta il caffè con humor. Vabbè, ma insomma, se ve le racconto, ecco, se ve le racconto le gag, non fanno ridere perché sono delle pure gag cinematografiche, anche se spesso sono delle gag di linguaggio, però poi ci sono anche delle gag slapstick incredibili. E da qui arriviamo al finale, il finale che è puramente futurista, il finale che sembra veramente l'aggiornamento di tempi moderni di Chaplin, fatte le dovute proporzioni, il finale in cui finalmente trova lavoro, un lavoro che sembra solido, in una grande azienda cibernetica, e qui quello che deve fare è talmente alienante che il primo ad essere alienato è il capo ufficio che deve insegnargli cosa deve fare. E guardate, se non volete, il film si trova su YouTube, vi metto sotto il link, ma anche le singole gag si trovano. Ora, non solo le singole gag fanno quasi tutte sempre molto ridere, quale più, quale meno, certo è una raccolta di gag, è una collana, ognuno ha le sue preferite, e ovviamente il livello non può che essere disuguale, ma dentro tutte c'è un rapporto con la storia della comicità, e quindi con la tradizione, e quindi con la nobiltà, ma anche con quella nobiltà raccontata a un pubblico che vuole essere basso, popolare, triviare, che non ha paura della volgarità senza farne una bandiera. Cioè non è la volgarità intellettuale di certi cinepanettoni che utilizzavano la volgarità per compiacersi dell'aver detto la parolaccia o dell'aver dimostrato la scurrilità, ma viene utilizzata all'interno di un discorso comico, quindi non deve, e allo stesso tempo però non ha neanche, come dire, l'ipocrisia intellettuale di doversi giustificare per aver detto le parolacce o per aver mostrato la volgarità, ma anzi che è una volgarità appunto sana. E non è un mezzuccio, cioè è una volgarità sana perché intorno ci si costruisce un discorso di scrittura e di cinema. Ecco, in un film che è apparentemente appunto semplice, semplicistico per qualcuno basico, c'è un lavoro di regia, proprio di regia nel senso stretto del termine, cioè di direzione, di fare in modo che tutto vada secondo il fine prefissato e che tutto vada a buon fine, che è veramente magistrale. Il lavoro sul ritmo, sul crescendo, sui toni, è davvero magistrale, pure in un film che è invece, che vuole essere il più popolare e anche il più, come dire, ruspante possibile. quindi se non l'avete visto, viene avanti cretino, è il momento giusto per vederlo e per scoprire o riscoprire quello che è il più grande film comico italiano degli ultimi 40 e forse più anni. Grazie per avermi visto. Cosa ne pensate? L'avete visto il film? Se lo avete visto, che ne dite? Che ne dite soprattutto con la mia presa di posizione un po' forte. Ci vediamo, mettete mi piace, condividete, commentate e supportate se vi va il mio lavoro offrendomi un caffè su Bemia Coffee e ci vediamo per i prossimi video, le prossime live, i prossimi podcast. Ciao a tutti!